C'è l'ultimo, c'è l'ultimo, c'è l'ultimo Ciao a tutti ragazzi qui Dexta Oggi sono finalmente tornato dopo un sacco di tempo Sono qui con Molly Ciao, finalmente siamo ritornati Siamo ritornati ragazzi Questo qui è un video veramente diverso dal solito Perché insomma faremo un qualcosa di molto particolare Io sono mancato per un po' di tempo E ho deciso di insomma ritornare qui su Youtube in un modo molto particolare Infatti qui abbiamo praticamente tutti questi cartoni Che ci serviranno per costruire una casa di cartone E poi ragazzi dentro la casa di cartone Una volta... Sì a voi C'entri abbastanza Una volta completata la casa ragazzi Metteremo praticamente la PS4, la TV E proverò a giocare a Fortnite e di conseguenza vincere Quindi non so, sarà molto complicato Però ci proverò Tu Molly Diciamo che è una mezza pazzia È una mezza pazzia Già solo creare la casa Infatti non so come verrà sinceramente Però Ci proveremo, ci proveremo Allora praticamente Dag ha svuotato Un po' il supermercato Perché ha preso tutti i cartoni che c'erano Sei pronto per togliare? Sì allora siamo per costruire ragazzi Facciamo questo capolavoro Io non so come verrà Vi dico la verità però verrà una casa di cartone La chiameremo così ma Sarà una capanna Non ho idea L'architetto Deg Ovviamente ragazzi lasciate un like per altri video di questo tipo Insomma io voglio portare anche delle cose nuove qui su YouTube Quindi insomma lasciate un like Eh vabbè però dico con ste forbici Lasciate un like per altri video del genere E Molly adesso però mi deve aiutare a costruire questa casa Perché adesso non ce la posso fare Ma per forza aiutarti Ovvio Sì Allora praticamente nella costruzione ragazzi della casa Siamo arrivati a questo punto Però ci siamo accorti che c'è qualcosa di strano Cioè che animale è questo? Che animale è? Adesso faccio uno zoom perché non vorrei avvicinarmi Però cioè non so è stranissimo Sembra una mosca Cioè secondo te cos'è? Non lo so è un essere strano No ma è bruttissimo Sarà una mia aeroporto No ma Stifo Magari è la mia Ragazzi continuiamo a costruire la casa però non so Quella cosa per me è veramente pericolosa Se sto con sovola io scappo Ma vado No ma io sinceramente non so cos'è capito Quindi Eh lo so che non so che stai È bruttissimo tra l'altro C'è neanche chi dici ma che è grazioso È bruttissimo Comunque continuiamo a costruire la casa molly Poi ci ripareremo là dentro Allora ragazzi dopo due ore Due ore Abbiamo costruito Non è una casa Non si può definire una casa Penso più una capanna Però insomma abbiamo già installato tutto La PS4 eccetera Vi facciamo vedere ragazzi cosa abbiamo creato Allora questa qui sarebbe Sarebbe il nostro La nostra casa Il nostro forte Che poi di conseguenza richiama Fortnite E diciamo è stato veramente difficilissimo ragazzi crearlo Difficilissimo C'è un po' di scotch giustamente Un po' di nastro Qui abbiamo la prolunga Per giustamente la tv e la PS4 Facciamo il giro completo Molly ha lavorato tantissimo Cosa strana Che vuol dire cosa strana Cosa strana E qui ragazzi vai molly Fammi questa presentazione Questo è il nostro capolavoro Dall'architetto Dag Apriamo la nostra casa Ok allora questa ragazzi è la casa Ci sono le porte Benvenuti Entra la nostra casa E benvenuti Qui abbiamo la PS4 La tv messa sopra un cartone Infatti tra poco probabilmente cade E qui abbiamo due sgabelli Quello più piccolo è di molly Giustamente Qui ragazzi insomma abbiamo questa casetta Ora mi metterò qui Abbiamo la PS4 Collegata praticamente ovviamente al wifi C'è il modem praticamente qui sotto il terrazzo Quindi dovrebbe andare bene Allora molly si è posizionata Sembra la casa Dei puffi La casa Veramente dei puffi Ok allora Qui ci sono anch'io ragazzi Tanto che accade pure tu Qui ci sono anch'io Chiudi dai Vediamo le porte Postazione da gaming 2018 Allora ragazzi mi sto buttando A Corso Commercio Ho alzato un bel po' il volume Insomma della tv Perché altrimenti C'è già che questa è una postazione Veramente Veramente strana Per di più Insomma senza le cuffie Veramente un casino Direi di andare in questa casa qui Sì Vai Dimmi che c'è una cassa Dove sei? Eccola qui vai Scondiamo tutto Bravo Un po' che mi dà Niente di che Ma perché devi distruggere le cose? Eeeh il gioco Devo rimanere concentrato È difficilissimo Mamma mia Vabbè 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 Andiamo a prendere Questa cassa Che mi dai tu Niente Altre granate Vabbè No ma veramente È troppo assurdo Come sei concentrato Vabbè qua c'è un'altra cassa Niente di che Sì ma come Non sto trovando Buono Buono E niente Ma quindi cosa si deve fare In questo gioco? Ma in questo gioco Cioè devi arrivare primo Devi arrivare primo A fare che? Eeeh Ora siamo rimasti in 47 Chi sopravvive Per ultimo Cioè l'ultimo che sopravvive vince Quindi devi ammazzare tutti gli altri Mia E quanto tempo si perde? No vabbè Durano un po' le partite Soprattutto quando mori Mori presto Ah vabbè Certo Molto divertente Sto cercando di concentrarmi Però Non so se Appena sento qualcuno Non so come mi fa a fare Altra cassa Dammi qualcosa Uh Ecco Questo qui per esempio È lo scudo grande Ecco Che ora me lo bevo E praticamente E come si chiama? Eeeh Come si chiama? Non mi riva Vabbè scudo grande Scudo grande? Sì poi prendo il cecchino Vale scudo Dai almeno Fucile a pompa e cecchino A posto vai E allora Ma Siamo rimasti in 36 Non c'è nessuno però E qua c'è un'altra cassa E ora Forse c'era qualcuno Comunque ragazzi Io ho vinto 12 partite Quindi Ci ho giocato poco Cioè da poco ripresa a giocarci Infatti ho la skin Che non è niente di che Allora vediamo se posso prendere Sta cassa Amma mi sta impappinando Ti sta impappinando? Eeeh Sì Amma Guarda è difficile Giocare qua Cioè Io non ne capisco niente Comunque Cioè già è difficile Normale con le cuffie Figure di quale Intravo la casa di cartone Non proverò mai In vita mia A giocare in questo gioco Non lo so Come non lo so 20.000 likes Nooo Nooo Vabbè Se già per te Intanto prendo sto lanciagranate Sì Lo devo prendere per forza Eeeh Il medikit Non lo so Sono indeciso Che faccia Che vabbè Me lo prendo Ok a posto Ti stavo dicendo Dato che già Era complicato per te giocare a GTA Eh infatti Significa Missione impossibile Ragazzi siamo rimasti in 27 Altra cassa Non lo so Uuuu Caraffa Questa qui è bellissima Questo è il medikit per forza Mamma mia Questa molly Per esempio la caraffa Quella cosa di arancione È eccezionale Perché ti ricarica a vita Sì eccezionale Ti ricarica a vita e scudo Lo senti o tre del cartone Sono concentrato molly Sono concentrato a giocare a fortnite Nella casa di cartone molly Allora ragazzi Siamo rimasti in 21 Io sto guardando Ma veramente a corso commercio Ero da solo Come non è mai successo Una cosa del genere Io pensavo di incontrare qualcuno Ma invece ragazzi Cioè da solo Adesso siamo rimasti in 20 Vabbè Spero di fare veramente qualche kill Cioè ragazzi Nessuno Boh Vediamo forse nei magazzini Oh Destruisci Destruisci Vedi E poi la tassata È sempre così Allora Vediamo se lo prendo col cecchino Niente Vabbè La mira è quella che è Non ci posso fare Molto Esce la testolina Oh La testolina Senti molly Non mi criticare La testolina Non mi criticare Questo colo Deve ammazzare Cioè il primo fight Della partita Deve andare bene Vai Oh Vai Mamma mia È andata Però mi devo Devo prendere un po' di scudo Mi prendo la caraffa Perché Potrebbe arrivare qualcuno Vabbè Come vuoi che questo qua Non l'ho ammazzato prima Vì qua Vì qua Vabbè ragazzi Ma ne vado No ma ne vado in safe Ma ne vado in safe Non posso Dove te ne vai? Safe Cioè la zona sicura Molli La zona sicura Devo spiegarti un po' di termini Di fortnite Vedi là c'è un altro Troppa gente Siamo in 17 Ma dove si è costruito? Dentro al container Fucile a pompa Proprio senza pietà Andiamola a prendere così E dov'è? Cioè veramente È dentro al container Mamma mia No no c'è un altro C'è un altro C'è un altro Copri 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 Troppo troppo casino Mamma mia Mamma mia Comunque questi fucile a pompa Non lo so Non sono più Poco danno Poco danno Comunque devo andare via Da sta zona qua Perché veramente sono Al centro Di tutto Devo andare Assolutamente via Già siamo a 3 kill Però Attenzione Là ce n'è Ce n'è uno Ce n'è uno Cioè ce ne sono due Sopra la montagna Eccoli lì E qua ce ne sono altri due No vabbè Vabbè lo vado a prendere Queste mi sa Me la gioco Vai 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 Me la gioco ragazzi Vediamo un po' È il momento È il momento È il momento Oh No 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 vabbè Ma come hai fatto Eh vedi Sei forse un po' Fortunato Eh sì Sì Anche perché Ho trovato la caraffa Hai trovato la caraffa Sì Cioè ragazzi Impressionante Non so Non so cosa è successo Cioè Pensavo che sotto Già ci fosse Qualcosa Invece no Non ho costruito più Sono caduto giù Sono rimasto vivo Per pochissimo Però ho trovato la caraffa Quindi siamo ancora A posto Siamo a 4 kg Ragazzi Siamo rimasti in 5 Ok Allora qua Vabbè niente Prendiamo i colpi Con lancia granata A posto Metti di nuovo E andiamo Let's go Siamo di nuovo Alla perfezione Tutto Tutto ragazzi Al massimo Non so se qualcuno Sia morto sopra Non ne ho capito Nulla però Vado a vedere ragazzi Qualcuno vivo È rimasto sicuro Perché Non possono morire Entrambi Vabbè provo a salire Vai Andiamo 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 Lo sento lo sento Lo sento lo sento Lo sento Cioè c'è Sì ci sono Sì ci sono un sacco Di personaggi Io però Questo qua Gratis Skin gratis E vabbè Dov'è questo Ragazzi ho messo Quella cosa lì Per saltare Sinceramente Non mi ricordo Il nome Però Vedete Ora devo andare In safe Vediamo se Allora Quello non c'è Forse È in qualche C'è spuglio Io non lo so Però non lo vedo Non c'è Lo sento Lo sento Lo sento Lo sento Dov'è che sei Dov'è che sei È sotto sicuro Ragazzi Eccolo lì Vai Lì 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 Esci Esci Vai 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 Eliminato 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 Prendiamo tutto Prendiamo altro medikit Quanto C'è l'ultimo C'è l'ultimo C'è l'ultimo Uh Eh ma questo non costruisce Quindi Vabbè ragazzi Vado Vado di lancia granate Questo qua Questo qua Non costruisce Lo uccido E' scarso Non lo so Vediamo che muore Beh sta costruendo Allora Andiamo di potenza Di potenza E andiamo Vittoria reale ragazzi Mamma mia Difficilissimo Ma che fai i balletti No vabbè Possiamo uscire Possiamo uscire Da qua Ragazzi E' stato super complicato Veramente Super complicato 13 vittorie Qua 13 vittorie Vediamo 13 vittorie ragazzi In singolo Poi Ne ho Una In coppia Vabbè Non gioco quasi mai In coppia Niente ragazzi A posto ce l'abbiamo fatta Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Insomma Abbiamo Abbiamo fatto una cosa Fuori dal normale Abbiamo perso circa due ore Per Insomma Costruire questa casa Di cartone Vabbè Non è che una casa Cioè Non saprei Guardate anche Il tavolino Per la tv Non è una cosa normale Comunque Abbiamo fatto ragazzi Una cosa Fuori dal normale Ho vinto Fortunatamente A fortnite Diciamo L'intenzione Era quella Di giocare Però Ho vinto È stato Difficilissimo Veramente 10 volte Più difficile Senza le cuffie Dentro una cosa Del genere Non si può giocare Questa Guardate qui Ultima volta Postazione da gaming 2018 Anzi 2019 Perché Ormai Insomma Il tempo passa Come 2019 Vabbè Si può essere Magari nel 2019 La copierà Boh Non lo so Non lo so Non lo so Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Per altri video Del genere Faremo Delle cose Probabilmente pazze Qui sul mio canale Poi magari Nei prossimi giorni Usciranno altri video E altre cose Insomma Altre follie Non lo so Vedremo un po' Qui è Dexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo Video Ciao